Il ministro Sergio Costa mantiene gli impegni assunti ed ancora una volta sostiene il Comitato Salute e Vita di Salerno che da anni conduce la sua battaglia contro l'inquinamento delle fonderie Pisano a difesa del territorio dell'intera valle dell'Irno. Ad Ascea nel corso di un incontro con il presidente del Comitato Lorenzo Forte per discutere delle fonderie di Via de Greci a Fratte mantenendo le promesse Costa ha annunciato che si è costituito come Ministero dell'Ambiente a sostegno delle tesi dell'Associazione nel procedimento impugnativo dell'AIA concessa a Pisano dalla Regione Campania a detto del Comitato illegittima. L'8 settembre è fissata l'udienza al TAR ed accanto all'avvocato Lanocita ci sarà l'avvocatura dello Stato che sosterrà le tesi del Comitato affinché l'AIA, l'autorizzazione integrata e ambientale, venga annullata. Sabato abbiamo incontrato il ministro Costa ad Ascea per discutere delle fonderie Pisano e soprattutto ci ha portato un'altra buona notizia mantenendo le promesse che avevamo preso con lui in un collegamento Zoom qualche settimana fa si è costituito come Ministero dell'Ambiente a sostegno delle tesi dell'Associazione Salute e Vita nel procedimento di impugnativa della nuova AIA, l'autorizzazione integrata ambientale concessa ai Pisano il 20 luglio in pieno lockdown, lo sottolineiamo dalla Regione Campania, un'AIA che secondo noi ma anche secondo quindi il Ministero dell'Ambiente è un'AIA piena di illegittimità concessa in maniera illegittima dalla Regione. Pertanto l'8 settembre accanto al nostro avvocato Franco Massimo Lanocita ci sarà l'avvocatura dello Stato che sosterrà le tesi del Comitato per chiedere che quell'AIA venga annullata perché è un'AIA che non ha la via, la valutazione di impatto ambientale, è un'AIA che non ha avuto da parte dell'ARPAC e dell'Associazione nessuna prescrizione importante, è un'AIA che sembra l'ennesimo comportamento scellerato da parte della Regione Campania che da una parte in pieno lockdown concede l'AIA, dall'altra invece nasconde lo studio spesso sulla salute dei cittadini. Lo ribadiamo, anche il Ministro dopo aver annunciato solo con le parole che la Regione Campania non faceva nulla per fermare il mostro di fratte, oggi fa un altro atto importante, si schiera con un atto concreto l'8 settembre accanto alla vita, alla salute, ai cittadini.